Allora, grazie a tutti di essere venuti, siete tantissimi e questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere perché vuol dire che finalmente stiamo tutti piano piano prendendo coscienza di quello che è il nostro essere cittadini. Noi vogliamo essere cittadini consapevoli e non cittadini a nostra insaputa, per cui quello che noi cerchiamo di fare dall'interno delle istituzioni è innanzitutto informare, informare il più possibile quelli che sono fuori per farvi vedere quello che succede. E devo dire, dopo quasi un anno di attività, quello che succede è imbarazzante. Noi di tanto in tanto rimaniamo scandalizzati, di tanto in tanto cerchiamo anche di divertirci. Se voi considerate che da circa il 18-19 aprile l'Assemblea Capitolina non si riunisce, quindi l'organo deliberante non delibera, non lavora, noi lo riteniamo una cosa assolutamente scandalosa con una città che sta bruciando, il PD, la maggioranza, decide autonomamente che non vale la pena né convocare né quando si convoca non vale la pena venire in aula. Al che un giorno noi abbiamo fatto, spero l'abbiate visto perché noi ci siamo divertiti così, durante l'ultimo dei quattro appelli previsti da regolamento siamo andati a sederci sui banchi della maggioranza rispondendo all'appello al posto loro. Noi cerchiamo di informarvi il più possibile per far vedere quello che succede. Mi raccomando voi condividete le nostre informazioni, facciamo conoscere anche agli altri quello che succede, risvegliamo le coscienze. Ora io non vi voglio tediare con pappardelle molto pesanti e mi sono stampata una cosa che mi faceva piacere condividere con voi, la quale cosa è estratta direttamente dallo Statuto di Roma Capitale. Questo l'ho fatto perché dopo dieci mesi io mi sto iniziando a interrogare su quali siano le funzioni dei consiglieri capitolini, perché siamo stati eletti, perché sono stati eletti loro, perché la maggioranza è stata eletta, è stata chiamata a governare e non fa niente. Che cosa dovrebbe fare? Allora l'articolo 3 del Tuel, che è il testo unico degli enti locali, dice molto chiaramente che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Voglio dire la linea è tracciata, questo è quello che deve fare il comune. A questo punto lo Statuto di Roma Capitale entra nel dettaglio e qui mi viene proprio da ridere, ma tanto da ridere. Iniziamo. L'articolo 2, non ve lo leggo tutto perché insomma è fatta una certa ora, non vi voglio trattenere tutta la notte, però i punti salienti insomma. L'articolo 2, il primo comma dice Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale. Ebbene dico solo una parola. ATAC. ATAC, signori, ATAC. Che è la risposta dell'amministrazione a questa norma. Vi ricordo che l'attuale amministrazione, che pure aveva promesso la cura del ferro, l'aumento della mobilità pubblica, eccetera, eccetera, sta iniziando a smantellare delle linee di trasporto pubblico. Inizia dalle periferie, tanto a noi, chi abita in periferia, ma che ce frega, giusto? È ovvio, no? Bisogna andare in bicicletta, lo dice il sindaco che abita al Panteon e fa due metri e arriva in Campidoglio. Insomma, mi sembra chiaro. Ma non ci sono a Roma neanche, non mi ricordo, le domeniche quelle ecologiche per ridurre le polveri sottili o le talche alterne. Cioè, questo è il concetto che l'amministrazione ha di come si deve implementare il trasporto pubblico, la salute, la mobilità sostenibile. Questo è il concetto. Ho addirittura pensato che la cura del ferro, in realtà, si riferisse al ferro delle putrelle del cemento armato con il quale vogliono ricoprire la città e le aree verdi. Da qualche parte, cioè, voglio dire, qualche cosa l'avranno detto, lo faranno, no. Poi, continuo. Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa, quale? Mi domando io, comunque. E la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni assicura, attraverso tecnologie informatiche, queste sconosciute, mi permetto di dire, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e bla bla bla, e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione. Allora, pubblicità, pubblicità è una cosa fantastica. Noi nasciamo per rendere tutto pubblico, trasparente. Questo sindaco ha fatto una bella campagna elettorale sulla trasparenza, la casa di vetro, eccetera. Beh, vi dico che noi siamo riusciti, dopo duemila anni dalla nascita città di Roma, siamo riusciti, dopo molte insistenze, a ottenere lo streaming dell'Assemblea Capitolina. E siamo riusciti a ottenere la pubblicazione dei verbali delle commissioni online. Certo poi, se invece pubblichiamo la lista e l'elenco delle presenze dei consiglieri, gli altri consiglieri si arrabbiano, perché dicono che c'è la privacy. Cioè le commissioni sono pubbliche, però non si può sapere chi era presente e chi era assente, perché ovviamente c'è la privacy. Hanno, diciamo, un concetto un po' sballato di trasparenza, pubblicità, eccetera. La partecipazione, voi partecipate all'amministrazione, vi sentite partecipi? L'amministrazione vi ha mai interrogato un bel referendum consultivo, non so, un qualche questionario inviato a casa? A me non è mai capitato. Parliamo di bilancio partecipato, parliamo di proposte, di iniziativa popolare, che è uno strumento istituzionale con il quale i cittadini possono partecipare effettivamente all'amministrazione pubblica. E diciamo che a Roma dal 2001 giacciono in qualche scantinato undici proposte di iniziativa popolare che non sono mai state neanche discusse. Questo è il modo in cui l'amministrazione si preoccupa e cura la partecipazione dei cittadini. Per non parlare poi dell'accesso agli atti, che è garantito per legge, ma noi stessi consiglieri facciamo tante richieste d'accesso che poi non vengono evase, quindi questo rimane lettera morta. E se rimane lettera morta allo statuto, figuriamoci i programmi elettorali. Ancora parla di diritto al lavoro, diritto al lavoro, tutela della sicurezza, sono sotto gli occhi di tutti gli scioperi di questi giorni, di tutti i dipendenti capitolini, per quanto il lavoro viene tutelato da questa amministrazione, non ve lo devo ricordare. Parla di tutela degli anziani, tutela dei giovani e dei bambini. Allora, gli anziani a Roma vivono praticamente o in casa o nei centri sociali anziani, i quali centri sociali anziani in realtà offrono anche poche attività. Questo è il modo in cui Roma se ne vuole prendere cura. Secondo noi è un po' pochino. Ci sarebbe da valorizzare quel ponte generazionale tra anziani e giovani, la trasmissione del sapere e dei saperi. Ci sono tante cose che possono essere fatte, vabbè, ma adesso perché perdere tempo? Insomma, noi dobbiamo cementificare e costruire. La partecipazione civica dei giovani mi sembra abbastanza assente, direi non pervenuta. La tutela dei bambini mi fa molto ridere perché la scuola la stanno smantellando. La stanno smantellando a livello nazionale e la stanno smantellando a livello locale. Allora, noi che siamo all'opposizione dell'opposizione stessa, ovviamente veniamo a conoscenza dei provvedimenti dai giornali, da voi stessi, quando ci iscrivete, ci segnalate qualcosa, e così siamo venuti a conoscenza che pare la Giunta abbia fatto questo provvedimento di riorganizzazione dei servizi all'infanzia da 0 a 6 anni, in base ai quali vuole ridurre l'orario dei nidi pubblici. Quindi dall'orario di apertura delle 7 passarlo alle 8, dalle 18.30 alle 16.30 e quelli che fanno alle 16.30 ridurre alle 2.30, chiedendo poi ai nidi convenzionati oppure ai privati di coprire le fasce che ovviamente si trovano scoperte. Questo è il concetto con cui Roma Capitale vuole tutelare il diritto allo studio, il diritto al gioco, vuole tutelare la maternità e l'infanzia, togliendo il pubblico a favore del privato. Non so, ditemi voi, se è normale. Non solo, ma poi per esempio bisogna tutelare le aree verdi, e qui c'è un episodio che a me fa proprio, mi fa indignare, ridere e indignare allo stesso tempo, lo voglio condividere con voi. Appena eletti, io vengo dal 14esimo municipio, Montemario, Ottavia, Trionfale, quindi zona nord, appena eletti abbiamo chiesto ai nostri portavoce municipali, Donatella Iorio e Marco Terranova, di presentare, arrivo taglio taglio, di presentare due mozioni, anzi tre mozioni, per chiedere al nuovo, al neopresidente del municipio di curare tre aree gioco che erano particolarmente devastate. Quindi immaginatevi scivoli rotti, le altalene con le catene spezzate, cioè proprio dei trabocchetti, invece che un'area gioco, era un'area omicidio. Quindi immediatamente presentate queste tre mozioni, voglio dire, sono poi cose anche di visibilità, figurati se l'aggiunta immediatamente non le prende in carico. Ebbene, ovviamente no, la risposta è stata no. I cittadini quindi ci chiedevano, ma che avete fatto, che non avete fatto, ma perché, ma per come. A un certo punto con un cittadino ci viene in mente, proprio la, come dire, inventiamoci la ruota, depositiamo, facciamo una petizione. A questo punto i nostri strumenti istituzionali non li ascoltano, ci mettiamo insieme, scriviamo sta petizione, lui la mette, e la pubblica su Facebook. Tempo tre ore, signori, tre ore, i politici, la scorsa settimana, quindi siamo in campagna elettorale, la scorsa settimana, tempo tre ore, i vari politici del municipio si sono fiondati come api sul miele per metterci il cappello sopra. La scorsa settimana sono andati a fare un sopralluogo. Cioè questo è il modo in cui l'amministrazione intende tutelare i cittadini, mettendo il cappello, facendo vedere che è presente, quando però le stesse cose vengono svolte all'interno delle istituzioni, chi se ne importa, non c'è visibilità, non serve a niente, nessuno ci guadagna. Vi risparmio il resto perché mi hanno detto di essere breve. Perché vi ho detto tutto questo? Perché in realtà quello che noi ci accingiamo a fare la prossima settimana è votare, che non è una cosa banale come mettere semplicemente un segno su una scheda elettorale, è dare credito a delle persone, persone che sino ad oggi per la legge dei grandi numeri ci hanno riempito di belle parole in campagna elettorale, bellissime parole. Tutti noi abbiamo un passato in cui prima del movimento abbiamo votato a destra, al centro, a sinistra, non mi interessa. Però tutti noi e tutti voi sicuramente avremo creduto a queste promesse. Ecco, questo è il modo in cui poi loro mantengono le loro promesse. Non facciamoci abbindolare più, apriamo gli occhi, chiediamo ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri vicini, facciamoli vedere, chiediamo anche a loro di aprire gli occhi. L'Europa è importante, in Europa ormai si prendono tutte le decisioni che riguardano i singoli stati e quindi anche quelle che riguardano l'Italia. Diamo fiducia ai nostri ragazzi, diamo fiducia alle persone che oggi si sono presentate, diamo fiducia all'onestà, perché è questa quella che salverà l'Italia. vi ricordo di venire in piazza venerdì 23 maggio dalle 18 alle 23. Ci vediamo a San Giovanni, vinciamo! Grazie!